Torta di mele e cioccolato Questa è una ricetta dedicata a tre bambini Giulia, Marta e Pietro Vi saluto tantissimo e vi ringrazio di salire sempre tutte le mie ricette Io so che vi piacciono le mele e che a Marta piace il cioccolato Quindi questa ricetta ho unito tutti gli ingredienti per fare una torta facile che potete fare a casa Ovviamente questa torta è dedicata anche a tutti gli altri bambini Ma anche alle altre persone che seguono il canale magari appassionate di questi ingredienti Spero tanto che questo dolce vi piaccia e vi lascio la ricetta Iniziamo prendendo il latte tiepido e vi aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone Mescoliamo e lasciamo da parte Questo aiuterà ad ottenere una torta ancora più morbida Nel frattempo prendiamo una terrina e andiamo ad inserirvi dentro due uova Aggiungiamo anche lo zucchero, io ho usato quello di canna ma va benissimo anche quello semolato se l'avete in casa E mescoliamo con una frusta a mano semplicemente per un paio di minuti cercando di far sciogliere lo zucchero A questo punto aggiungiamo il latte e l'olio di girasole Continuiamo a mescolare sempre con la frusta per amalgamare il tutto È semplicissima da fare questa torta e veramente la merite davvero Aggiungiamo la farina doppio zero, la setacciamo così andremo a creare meno grumi nell'impasto E poi sempre con la nostra frusta a mano andiamo ad amalgamare per bene il tutto Questa è un'operazione che si può tranquillamente fare con i bambini e si divertono di solito un mondo Tutti gli ingredienti che ho utilizzato li trovate ricapitolati sia durante la videoricetta sia sotto all'interno del box informazioni Una volta che abbiamo ottenuto un impasto bello liscio lo mettiamo da parte e prendiamo le mele Io ho scelto tre mele, non erano tutte della stessa dimensione, alcune erano un po' più piccole, altre un po' più grandi Ho scelto queste gialle belle mature perché si sciolgono proprio in cottura, diventano super morbide e secondo me stavano benissimo Ma in realtà potete utilizzare le mele che preferite, ovviamente daranno consistenze diverse in base al tipo che scegliete I pezzi vi consiglio di farli un po' piccoli, un po' grandi, non siate troppo precisi In questo modo avrete diverse consistenze nella torta Io le vado a tagliare direttamente nella ciotola ma potete tranquillamente utilizzarvi con un tagliere Andiamo poi a prendere il cioccolato fondente e lo tritiamo finemente Potete anche utilizzare direttamente delle gocce di cioccolato, va benissimo Io semplicemente non le avevo in casa e quindi ho optato per questa soluzione Il risultato è un po' diverso perché con le gocce di cioccolato rimangono più intere all'interno dell'impasto Mentre il cioccolato sminuzzato si amalgama meglio all'impasto Vado ad aggiungere anche il cioccolato all'interno della ciotola insieme alle mele E mescolo per bene il tutto Semplicissimo e facilissimo Come ultimo ingrediente andiamo a setacciare il lievito per dolci Io ho utilizzato 8 grammi che corrisponde a mezza bustina Setacciamolo sempre perché così si distribuisce in modo più uniforme nell'impasto Mescoliamo per bene 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 in modo tale che vada dappertutto E poi siamo pronti per trasferire all'interno dello stampo Ho scelto uno stampo tondo e cerniera da 22 cm Va benissimo anche da 24 cm Va benissimo fare anche una torta quadrata, quello che avete Semplicemente più lo stampo sarà largo più la torta verrà bassa Cuocciamo il forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 40 minuti Dico circa perché appunto dipende dallo stampo che avete scelto e anche dal vostro forno Fate sempre il controllo con uno stecchino al centro della torta Se lo stecchino è asciutto vuol dire che la torta è pronta Spolverata di zucchero a velo obbligatoria su questa torta E poi godetevela tantissimo perché è super morbida davvero Spero tanto che questo dolce vi piaccia, spero tanto che piaccia a Giulia, Marte e Pietro Se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le future ricette E qui vi lascio un altro dolce alle mele Ciao, alla prossima!